La Società Acqua e Termi di Fiuggi è alla ricerca di privati che possano promuovere le vendite in esclusiva dell'acqua di fiuggi, nel territorio termale e in quello delle province di Frosinone e Latina. La società pubblica sta facendo tutti gli sforzi possibili per cercare di dare nuova linfa alle vendite dell'acqua, dopo un periodo di crisi nella diffusione del prodotto. Per questo è stata diffusa la manifestazione di interesse rivolta alle ditte individuali con licenza di vendita all'ingrosso, che possano promuovere il marchio fiuggi. La ricerca di promotori è finalizzata alla diffusione nel canale Orica e nel dettaglio tradizionale esercenti nei vari territori già citati. Il soggetto aggiudicatorio si obbliga pertanto alla distribuzione dell'acqua, all'acquisto dei prodotti della società ATF, alla vendita e alla promozione della commercializzazione nelle zone indicate dal contratto e a concordare il prezzo di vendita a terzi dei prodotti fiuggi con ATF, che dovrà esplicitamente approvare il listino di vendita. Naturalmente sarà un impegno esclusivo, visto che l'aggiudicatario non potrà commercializzare altri prodotti concorrenti. L'affidamento al soggetto aggiudicatario avrà una durata fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo per il prossimo anno. Naturalmente, peraltro l'avviso è scaduto il 25 gennaio scorso, la manifestazione di interesse non costituisce una procedura di avviso pubblico, ma soltanto lo scopo di eseguire un'indagine di mercato. Dunque, la società pubblica ATF ricerca figure nuove e fresche a cui poter affidare in parte la commercializzazione dell'acqua di fiuggi, in attesa di ulteriori sviluppi all'interno dell'azienda.